e benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono il mio posto uno ragazzo e oggi siamo in un uovi ah già partiamo male, partiamo molto male, vieni qua, vieni qua che ti meno, vieni qua, vieni qua, vieni qua che ti meno vabbè ragazzi a parte questo siamo in una vanilla come avrete potuto notare insieme al signorema ragazzi per iniziare una nuova vanilla lasciate un bel like iscrivetevi al canale condividete e attivate la campanella per non perderti tutto un altro video ragazzi ma Emma ma te sai come dare un nome a questa vanilla? non abbiamo ancora scelto un nome cioè no ragazzi io direi più che altro che lo decidete voi nei commenti giusto bravo 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 ragazzi sarete voi a decidere il nome di questa vanilla che durerà meno di un giorno ma va bene ragazzi detto questo iniziamo subito a fare qualche progresso prima di tutto prendiamoci subito la legna il bioma mi aspettavo peggio però il bioma sinceramente io mi aspettavo di meglio però va bene comunque è proprio che mi aspettavo tipo un bel villaggio poteva essere anche peggio poteva essere anche peggio naturalmente però io mi aspettavo un bel villaggio però vabbè potevo anche morire all'inizio video in questo primo episodio ragazzi cercheremo magari di vabbè possibilmente di arrivare con gli utensili in pietra e possibilmente trovare il posto in cui costruiremo la nostra bella casa tentiamo prendiamoci subito un bel po' di cibo vieni qua mucca perché io penso di essere messo abbastanza bene ho trovato già due pecore solo che ok non saprei come è il letto è vero il letto il letto il letto allora più di tutto andiamo a cercare il posto delle pecorelle piccoline montoni crudo ma ma me l'ha dato solo un pezzo cioè io sto trovando più mucche che pecore questa cosa mi fa un casino ridere ho trovato tre pecore anzi quattro c'è ma dato il cuoio e non mi ha dato la carne ma ho dato il cuoio ma non mi ha dato la carne no 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 raga 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 mi ha dato il cuoio ma non mi ha dato la ah non si me l'ha dato uno ah no no raga se mi dava il cuoio ma non la carne raga è tipo rarissimo lo sai ma davvero madonna mi ha dato 3 ma dato 3 cotelette con oh vieni da me bro 139 90 meno 280 e la madonna ma come è fatta ad arrivare già così lontano 139 90 meno 180 su gas gas eh 140 no 90 meno 280 prima di tutto bro dormiamo che non voglio già morire la prima notte cioè credo sia meno effettivamente hai effettivamente ragione eh appunto appunto mamma mia cioè io gioco da io gioco dal 2016 a minecraft non mi ricordo che non si possono mettere i letti sopra le foglie ok ragazzi e ma intanto è andato via un momento comunque raga la nostra idea sarebbe di fare una casa la posizione raga la stiamo scegliendo in questo momento non sappiamo se farla tipo la sarebbe bello però non mi piace molto che dietro ci sono troppi alberi c'è anche qua ce ne sono un po' ma quelli la ci metteva un casino a toglierli mentre questi qua sono molto semplici da togliere però qua di estetica questa sabbia non mi piace per niente perché là non ce ne raga sono andato prima a controllare eh comunque adesso è ora di dormire eh sto cercando un attimo di immaginare ecco la porta sarà più o meno questa ok ci può stare meglio di quanto mi immaginassi la porta oh la porta fissica ci sta tantissimo allora 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 però dopo ok però a momento come roba ci può stare vabbè dai facciamo una roba continueremo nel prossimo episodio ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi al canale condividete e attivate la campanella campanellina nessun altro video ragazzi e detto questo ci vediamo nel secondo episodio bella ciao 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 ciao